buongiorno riello solar tech dopo aver consolidato la gamma degli inverter per applicazioni residenziali monofasi e quelli per le industrie di piccola potenza quindi fino ai 30 kilowatt presenta sul mercato e nuove taglie da 50 60 100 e 110 kilowatt di potenza quindi per applicazioni industrie medio grandi o per campi fotovoltaici comunque dove le importenze in gioco diventano importanti e significative questi ultimi inverter sono naturalmente caratterizzati dagli ultimi ritrovati a livello di tecnologia quindi a livello elettronico di fatti danno la possibilità di avere dei ampi range di funzionamento quindi partiamo da un 200 arrivando fino a 1000 volt come per quanto riguarda il range di lm ppt per cui per poter garantire sempre la massima efficienza e la massima potenza sono inverter caratterizzati nello specifico da quattro inseguitori modello da 50 60 e rispettivamente 10 o 12 ingressi di stringa mentre modello da 100 e da 110 hanno 9 inseguitori e 18 ingressi per poter ovviamente ottimizzare al meglio quelle che sono le configurazioni dei campi fotovoltaici tutta questa gamma prodotti è caratterizzata da avere dei sezionatori ci sono due o tre sezionatori a seconda di come sono suddivise le potenze scaricatori integrati sia sul lato dc che sul lato ac e la possibilità di sovraccaricarli fino a un 150 per cento di quella che la potenza massima anche per quanto riguarda la comunicazione abbiamo un completamento di tutte quelle che possono essere le potenzialità per interfacciare questi prodotti nei sistemi di modi monitoraggio di controllo nello specifico abbiamo già integrato bordo macchina protocollo di comunicazione bas 485 la possibilità come opzionale di avere o la linea wifi quindi l'ingresso wifi o la scheda di comunicazione lan per potersi collegare alla rete ethernet